Il bilancio è quello che potete fare più voi e che tocca a me. A me mi tocca solamente di cercare di sopravvivere e di continuare a volervi bene. Cento anni da festeggiare con le tantissime persone che lo conoscono e che li vogliono bene da sempre. Antonio Guarino, per tutti Tonino, è un faro per tante generazioni amato anche fuori dai confini provinciali e regionali per il suo lavoro, l'ingegno e l'irreprensibilità. E adesso la sua città, Campi Salentina, celebra il suo secolo di vita e lo fa inevitabilmente anche con l'arte. La figlia, Maria Novella, e il nipote, Gian Maria, hanno organizzato la festa con amici e parenti in casa Guarino e nelle sale del Museo delle Tabacchine e la Fabbrica per i cento anni dell'avvocato. Avvocato sì, ma anche agricoltore, poi architetto con la passione per il disegno di mobili, complementi d'arredo, passando anche ai manifesti e alle caricature. Cultore del bello, Guarino è soprattutto un uomo innamorato della sua terra, che per tutta la vita si è dedicato al lavoro, alla famiglia, alla sua amata vita, 68 anni di matrimonio e 15 di fidanzamento. E per celebrarlo come merita, in occasione del centenario, è stato inaugurato il museo a lui dedicato. È così che aprono le porte dell'ex tabacchificio per donare ai visitatori lo splendore di un mestiere antico, quello del confezionamento dei sigari, con una dedica speciale alle donne e al loro insostituibile lavoro. E inaugura anche una nuova mostra con i suoi disegni. Non pensavo a un museo, mi rincresceva però gettar via quelle testimonianze di un passato importante per la donna, ha detto Guarino. I miei familiari mi hanno aiutato a mettere insieme questo piccolo patrimonio culturale, un museo dunque, per mettere ordine nella mole di documenti e oggetti raccolti, per onorare un patrimonio inestimabile.